Buonasera a tutti dalla Tg regionale per sordi. Dal 3 giugno sarà in vigore a Firenze un'ordinanza sulla cosiddetta movida sostenibile. Prevede che sui sagrati e le scalinate sottostanti delle basiliche di Santa Croce, Santo Spirito e della Chiesa di Sant'Ambrogio il transito sia consentito unicamente per l'accesso ai luoghi di culto. Sono vietati lo stazionamento e il consumo di cibi e bevande di qualsiasi genere. Attraverso cultura, eventi e musica con circa mille appuntamenti estivi in tutti i quartieri, di cui 34 sui sagrati, Palazzo Vecchio intende arginare così i fenomeni di degrado in città. Sempre sui sagrati è consentita la presenza delle persone che partecipano o assistono agli eventi culturali o alle iniziative sociali, purché promossi e autorizzati dal Comune di Firenze o da autorità religiose. I divieti saranno in vigore nei giorni di venerdì e sabato dalle 21 alle 3 del giorno successivo. I bagni pubblici saranno aumentati nelle ore serali, in particolare in Piazza Santo Spirito, Piazza Ghiberti e Borgo Santa Croce. Saranno aperti gratuitamente dalle 21 alle 3 nelle serate di giovedì, venerdì e sabato. Il prolungamento di orario va da oggi fino al 1 di ottobre. Nelle stesse aree saranno potenziate attività di svuotamento e pulizia dei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti. E vediamo i casi Covid in Toscana. Sono 969 i nuovi positivi, l'età media 49 anni e purtroppo si registrano 4 decessi. Si tratta di 2 uomini e 2 donne. L'età media è 85,5 anni. 3 sono a Firenze, 1 a Pisa. I ricoverati sono 271, 33 in meno rispetto a ieri, di cui 15 in terapia intensiva, 3 in meno rispetto alla giornata di ieri. E il Ministro della Salute scrive su Twitter Scendono casi e ricoveri per Covid e aumentano le occasioni di stare insieme. Non rimandare la quarta dose di vaccino è raccomandata per le persone di 80 anni e più, gli ospiti delle RSA e le persone di 60 anni e più con elevata fragilità. Si svolgeranno domani 2 giugno alle 15 nella chiesa di Santa Maria del Soccorso i funerali di Sabina Magrini, 52 anni, direttrice dell'archivio di Stato di Firenze, morta il 16 maggio all'ospedale di Grosseto dopo aver avuto un malore durante un'immersione subacquea nel mare di Livorno. La salma è esposta da oggi alle cappelle della misericordia, dopo due settimane dalla morte quindi torna a Prato dove viveva con la sua famiglia. Il magistrato ha liberato la salma solo nelle scorse ore dopo aver effettuato l'autopsia per cercare di ricostruire la dinamica e le cause della tragedia. Un nuovo strumento ad ultrasuoni permetterà guarigioni più rapide e con minor dolore per i pazienti e arricchisce la dotazione dell'ambulatorio per la gestione delle cosiddette ferite difficili di Livorno. A renderlo noto l'ASL Toscana Nord-Ovest. Gli ultrasuoni derivano da un processo di trasformazione dell'energia elettrica in vibrazioni meccaniche. Le punte del macchinario amplificano le vibrazioni meccaniche e trasferiscono l'energia ai tessuti attraverso un contatto diretto. E parliamo del processo Niccolò Ciatti. Oggi le deposizioni di fronte alla Corte del Tribunale Provinciale di Girona in Spagna di Rasul Bissultanov, principale accusato nel processo spagnolo per l'omicidio del ragazzo di Scandicci nel 2017 a Yoredemar e del suo presunto complice Moavsar Magomadov. La procura accusa Bissultanov di omicidio doloso e chiede una pena di 24 anni di carcere mentre non richiede Magomadov responsabile di aver partecipato all'omicidio di Ciatti colpito fatalmente in un pestaggio nella discoteca. Santrop, la famiglia della vittima e un'associazione che rappresenta i locali notturni catalani considerano invece Magomadov complice di Bissultanov. La difesa del principale accusato ritiene che si tratti di un caso di omicidio involontario e chiede che la condanna a suo carico sia al massimo di 4 anni di carcere. Sette residenze per artisti con locali condivisi e un laboratorio atelier nel cuore di Firenze a pochi passi da Santa Maria Novella e collegate al Museo del Novecento. Un'area sul modello della Cittadella Internazionale delle Arti a Parigi dove i giovani creativi potranno vivere, ideare e scambiare esperienze a stretto contatto con la città. Le residenze saranno realizzate in via Palazzuolo sul retro del museo per un costo di novecentomila euro e si inseriscono nel progetto di rigenerazione e rilancio della zona. È morto oggi all'ospedale di Livorno Giuseppe Mancini, 72 anni, storico titolare della Barcarola, uno dei più noti ristoranti della città. Molto apprezzato, meglio conosciuto come Beppino, per il suo cacciucco e per la cucina di mare in generale rappresentava una vera eccellenza in città, fin dal 1974, quando aveva cominciato a lavorare al ristorante di famiglia. Chi trova un nido trova un tesoro, è lo slogan della Regione Toscana per la sua campagna di sensibilizzazione e salvaguardia delle tartarughe marine, diventate simbolo e speranza per la biodiversità marina dell'isola d'Elba dopo le tre nidificazioni a Marina di Campo, Straccoligno e Naregno negli ultimi anni. E proprio all'Elba, a partire dal 13 giugno, Lega Ambiente e Arcipelago Toscano, insieme al Parco Nazionale, riprenderà l'attività di monitoraggio delle spiagge di sabbia, alla ricerca delle tracce di tartarughe marine che portano ai loro nivi. E ora vediamo insieme le previsioni del tempo per domani in Toscana. Sereno, poco nuvoloso, venti deboli, mari calmi o poco mossi. E ora veniamo alle temperature che sono davvero in ulteriore aumento, con punte di 34-35 gradi, valori ampiamente superiori alla norma e ci aspettano giorni di fortissimo caldo, sempre in crescita. E con questo è tutto, grazie per averci seguiti, arrivederci e buon proseguimento con Toscana TV.